E' passata qualche settimana ma non si è ancora spenta l'eco delle tre giornate organizzate dal Consolato Territoriale di Lanciano Abruzzo Citeriore per il ventennale dell'Unione Europea dei Gourmet. Un gran convegno che ha portato in città, in questa parte della nostra regione, delegazioni di consolati provenienti da molte regioni italiane. Di questo interessante percorso che vede protagoniste le eccellenze del territorio abbiamo parlato con Giuseppe Corti, Consoli di Lanciano Abruzzo Citeriore, che ha anche spiegato le peculiarità di questo sodalizio e da cosa si differenzia rispetto ad altre associazioni che privilegiano il buono e il sano. Sono svolti a Lanciano tre giorni per la celebrazione del ventesimo gran convegno dell'Unione Europea dei Gourmet. E' un'associazione che nasce da una costola francese, si costituisce a Torino circa vent'anni fa. In questa occasione si è svolto il ventesimo gran convegno, è stata scelta a Lanciano come uno degli ultimi consolati, il criterio è quello a rotazione, ogni consolato territoriale deve svolgere un gran convegno nell'ambito della sua vita. L'Unione Europea dei Gourmet Consolato di Lanciano è nata nel 2014 e quindi ad oggi era abbastanza matura per svolgere questo gran convegno. La differenza sostanziale è che parte da un elemento che è quello della bevanda, intesa come vino e tutte le bevande alcoliche, quindi superalcolici, vini, birre. E da lì ovviamente si estende, oltre che al buon bere, al buon mangiare con il corretto abbinamento tra vini e pasto. Diciamo che la differenza sostanziale nasce da lì, poi certo un po' tutte queste associazioni tendono a esaltare la qualità di una bevanda o di un cibo. Però diciamo che questa nasce proprio dal vino e arriva al pasto. È stata dunque anche l'occasione per valorizzare e promuovere il territorio? Diciamo che l'altro aspetto che in parte è comune ad altre associazioni è quello della valorizzazione delle eccellenze del territorio. Infatti in questo senso è stata una kermesse molto interessante e anche molto apprezzata. Devo dire che alla fine abbiamo avuto manifestazioni di gradimento al di là delle aspettative. Sono stati tutti veramente molto entusiasti e questo ci ha riempito d'orgoglio perché comunque è stata la presentazione del nostro territorio in una maniera eccellente. Corti ha ricordato anche il programma delle trentense giornate. Intanto loro hanno alloggiato in una struttura che di per sé è una struttura molto accattivante perché sono stati ospitati giù al castello di Septe. E poi abbiamo fatto la prima manifestazione il venerdì pomeriggio alla Torre Vinaria a Rocca San Giovanni. Anche quella è stata una location particolarmente apprezzata. Lì abbiamo svolto un piccolo convegno dove abbiamo presentato soprattutto alcune aziende di eccellenza che producono ventricina in prima battuta. Poi c'è stato l'olio ovviamente come elemento caratterizzante della zona e poi alcuni formaggi di superba eccellenza. Poi la sera è stata diciamo coronata da una cena preparata dal professore Armando Di Paolo con uno staff di cucina e di sala dell'alberghiero perché una delle collaborazioni interessanti è stata quella con l'istituto alberghiero di Villa Santa Maria. Sì ed è stato veramente una partnership particolarmente apprezzata da tutti. Devo dire anche dalla scuola. Alla fine anche i ragazzi hanno avuto la loro soddisfazione. E i prossimi appuntamenti? Ma i prossimi appuntamenti per quanto riguarda il gran convegno ancora non si sa ma diciamo che il prossimo anno dovrebbe essere candidato il Veneto e quindi ci si trasferirà tutti nel Veneto. Non bisogna dimenticare che c'erano regioni rappresentate come il Veneto, il Trentino, la Toscana, l'Emilia Romagna, la Basilicata, cioè anche regioni con una storia anche loro importante dal punto di vista enogastronomico. E per quanto riguarda il Consolato di Lanciano continueremo a fare il nostro lavoro, cioè degli incontri più o meno mensili però quando c'è qualcosa di particolarmente interessante da raccontare. Non tanto per andare a fare una mangiata o una bevuta che ormai si fanno e sono anche in eccesso i più delle volte.